Musica Bentornato Goodlier, bentornata In questa nuova lezione andiamo a visionare all'interno del pannello di controllo dispositivi e stampanti Andremo a vedere cosa contiene questa cartella In essa potrai visionare di norma i dispositivi che sono connessi al computer dall'esterno Anche se a volte riportano i dispositivi interni Tramite le icone degli stressi potrai accedere a funzioni supplementari Che ti permetteranno di utilizzare quel determinato dispositivo Oppure di risolvere un problema riguardante quel determinato dispositivo Variarne le impostazioni e risolverne i problemi Come accedi naturalmente dal pannello di controllo Individua il pulsante dispositivi e stampanti e cliccaci sopra La finestra che si aprirà presenterà le icone di tutti i dispositivi che sono connessi al computer Ed alcuni pulsanti periferici Certamente troverai il monitor e l'icona che rappresenta il computer stesso Inoltre se hai installato una stampante via cavo o wireless reale o virtuale Oppure un fax, uno scanner, un telefonino, una fotocamera, un dispositivo di memoria USB, webcam e quant'altro Li troverai tutti elencati Allora in pratica ogni dispositivo che avrai installato sul tuo computer Voglio puntualizzare che in questa lista non troverai proprio tutti i dispositivi connessi al computer In quanto la lista completa di tutti i dispositivi la troverai in un'altra sezione del pannello di controllo Chiamata gestione dispositivi e che tratterò in seguito Saranno esclusi quelli presenti all'interno del cabinet del case con qualche eccezione Inoltre non troverai periferiche connesse con cavi diversi dall'interfaccia USB Come ad esempio possono essere mouse e tastiere datate Che saranno collegati in questo caso tramite il vecchio spinotto PS2 Oppure anche gli altoparlanti che normalmente vengono collegati con i jack classici tipo stereo Ma cosa puoi fare con questa calterla? Beh dipende tutto dal dispositivo Qui elencato hai uno screenshot dei vari dispositivi che sono connessi al mio computer Ecco elencate brevemente le principali attività che puoi eseguire Puoi aggiungere un nuovo dispositivo Visualizzare tutte le stampanti e i dispositivi esterni connessi al computer Verificare il corretto funzionamento degli stessi Oppure visualizzare le informazioni sui dispositivi come ad esempio la marca, il modello o il produttore Eseguire le attività con un determinato dispositivo Quindi durante la sua funzionalità operativa Provare a risolvere eventuali problemi dello stesso Nel caso in cui dovesse non funzionare correttamente Per eseguire tali operazioni Sono presenti dei pulsanti all'interno della finestra Che varieranno cliccando sull'una o l'altra periferica L'una o l'altra icona Questo perché le operazioni eseguibili dal dispositivo Quindi l'operatività pura del dispositivo Varierà in base alla sua tipologia Cliccando poi ulteriormente Con il pulsante destro del mouse sul dispositivo Si srotolerà un nuovo menu Che sarà dedicato allo specifico dispositivo Evidenziando attività eseguibili solo con esse In tal un caso potresti eseguire funzionalità anche avanzate O addirittura interagire con il dispositivo stesso Come se stessi eseguendo queste operazioni Direttamente dal pannello di configurazione di quel dispositivo Come ad esempio poter modificare i parametri di un telefono cellulare Che sarà collegato al pc Potrai variare questi parametri come se agissi direttamente sul telefonino Questo per dirti che non è possibile determinare a priori Le varie possibilità fornite dai dispositivi In termini di impostazioni, pulsanti, operatività Vista la varietà delle periferiche Potenzialmente collegabili ad un computer Allora ti elenco alcuni pulsanti Che di norma troverai interagendo con i dispositivi Come detto puoi aggiungere un dispositivo O aggiungere una stampante E spellere il dispositivo Sfogliare i file all'interno dello stesso Visualizzare la stampa in corso Rimuovere il dispositivo dal sistema operativo Visualizzare alcune proprietà dello stesso Risolvere alcuni problemi che si verificano sul dispositivo Visualizzare e agire sulle impostazioni del dispositivo stesso E molto molto altro ancora Qualora tu volessi aggiungere ad esempio un dispositivo o una stampante Eseguirai una procedura guidata Che tenterà di individuare i dispositivi connessi al computer Che potranno essere o via cavo o via wireless o bluetooth Anche se stiamo parlando di dispositivi di rete E durante questa procedura avrai aggiunto questo nuovo dispositivo Questa nuova stampante per poterla impiegare L'altro pulsante è espelli dispositivo Che puoi equipararla all'opzione di rimozione di una periferica USB Il pulsante sfoglia file naturalmente ti permetterà di esplorare i file contenuti nel dispositivo Come se tu aprissi esplora risorse Con la funzione Visualizza stampa in corso Puoi visionare la lista dei documenti che avrai inviato alla stampante Ed eventualmente anche cancellarli se ti sei sbagliato o ti sei sbagliata Prima che esse vadano in stampa appunto Il pulsante Rimuovi dispositivo Rimuovi il dispositivo dalla lista e dal sistema operativo Quindi non sarà più utilizzabile Questo se naturalmente rimuoverai fisicamente il dispositivo Altrimenti al successivo riavvio avrai di nuovo la ricerca dei driver E quindi l'acquisizione del dispositivo stesso Il pulsante proprietà ti consentirà di visionare alcune delle proprietà del dispositivo Quali possono essere come detto marca, modello, caratteristiche e quant'altro riguarda lo stesso La funzione risoluzione dei problemi avvia una procedura Che impiegherai per tentare di risolvere dei problemi che presenta il dispositivo Sarà una procedura guidata, automatizzata totalmente Oppure parzialmente autorizzata nella quale dovrai interagire per cliccare sull'uno o l'altro pulsante Infine tramite i vari pulsanti delle impostazioni dei vari dispositivi Puoi personalizzare la funzionalità degli stessi e renderla quanto più vicina alle tue necessità Per le stampanti, ad esempio dal menu che si può generare o da quelli presenti Potrai personalizzare i processi di stampa Le preferenze di stampa in termini di densità, di colori, formato pagina, tipo di stampa Stampanti predefinite e molte altre funzioni dedicate naturalmente per quella specifica stampante Per farla breve da questa sezione del pannello di controllo Puoi avere sotto mano la situazione in maniera rapida di tutte le periferiche esterne al computer maggiormente utilizzate Ed impostare con pochi clic le funzionalità e il controllo degli stessi Cose che comunque ricordo puoi sempre definire in maniera dettagliata da altre sezioni che vedremo in futuro Ti porto a vedere cosa contiene la cartella dispositivi estampanti Clicca sul pannello di controllo ed individua la sezione e il pulsante dispositivi estampanti Dopo qualche secondo si presenteranno a te delle icone nella nuova finestra di tutti i componenti Di tutte le periferiche che sono collegate al computer Vediamo subito in alto Trovi due pulsanti aggiungi dispositivo e aggiungi stampante Che ti permetteranno di inserire un nuovo dispositivo da un elenco che si presenterà a te Naturalmente in questo caso qualora tu avessi il computer collegato ad una rete Potresti trovare altri dispositivi Io non avendo connesso alcun altro dispositivo in questo momento Questa lista è totalmente vuota Se volessi aggiungere una stampante potresti anche farlo da questo pulsante Anche se di norma avviene tramite il disco che ti viene fornito dal fornitore Comunque se tu dovessi aggiungere una stampante ad esempio di rete Cliccando su questo pulsante potresti selezionare questo pulsante Aggiungi stampanti di rete, wireless o bluetooth E il computer in maniera automatica, il sistema operativo in maniera automatica Andrà ad individuare la presenza di stampanti di rete In questo caso in questa postazione è collegata a questa stampante Che fa parte anche della mia rete Qualora tu ne presentassi più di una Avresti la possibilità di selezionare e condividere successivamente questa stampante All'interno di tutta la rete dei vari computer E quindi si tratterà semplicemente di portare a termine questa procedura in maniera automatica Dopo aver selezionato il dispositivo che tu vorrai impostare, installare In questo caso non mi resta che interrompere ed annullare la procedura In quanto non ho altre periferiche da dover installare Quello che volevo anche farti vedere è la varietà di dispositivi che puoi trovare in questa sezione E con la quale puoi interagire Come puoi vedere da questa serie di pulsanti in alto In base al dispositivo sul quale vai a cliccare Troverai un numero di pulsanti variabili Che ti permetterà di impostare o interagire con lo stesso Supponiamo di voler rimuovere un dispositivo Rimuoviamo questa stampante virtuale che non ho mai utilizzato Sarà sufficiente cliccare sul pulsante Rimuovi dispositivo Ad una conferma cliccando su sì Avrai avviato la procedura che porterà alla rimozione di questo dispositivo Oppure cliccando con il pulsante destro su un altro dispositivo Ad esempio la stampante Se ne avessi più di una potresti decidere quale impostare Come predefinita Oppure aprire il programmino che ti visiona la lista dei documenti in stampa Ed interagire sugli stessi Oppure impostare altre preferenze di stampa Che comunque puoi fare sempre qui Trani il pulsante proprietà Puoi andare a visionare alcune caratteristiche della periferica Eventualmente rimuovere come già visto il dispositivo Oppure tentare di risolvere dei problemi Qualora il dispositivo non funzionasse correttamente Visionare le preferenze di stampa E interagendo con il menu Selezionare il tipo di stampa che potrai scegliere Per mandare stampa i tuoi documenti Selezionare l'orientamento E quindi in base al menu di configurazione di ogni periferica Come puoi vedere puoi scegliere il tipo di impostazione Ed interagire come in questo caso E effettuando anche varie manutenzioni sulla stessa Puoi visionare anche i file all'interno del dispositivo Come se tu aprissi Esplora Risorse Quindi cliccando in questo caso Si aprirà proprio Esplora Risorse Che ti permetterà di spostare, copiare file o cartelle Come meglio credi Riapriamo dal pulsante alternativo Presente in questa sezione La stessa finestra Il senso di questa parte pratica Non è tanto quello di spiegarti la funzionalità E ciò che vedrai su ogni dispositivo Perché questa configurazione naturalmente È totalmente diversa da quella che avrai tu Ma è farti prendere coscienza della presenza E quindi di stimolo A visionare le varie caratteristiche Che ti presenta questa sezione del pannello di controllo Bene, nella prossima lezione Altro ancora sul pannello di controllo Ora un forte saluto Ciao a presto Da Gallo e dalla prossima